amici di dieta flessibile Italia ben ritrovati siamo con una nuova amica in un'altra le nostre interviste oggi ho il grande piacere di intervistare Giussi e ci racconterà un po' il suo percorso ci racconterà come è andata come si trovava e i risultati che ha raggiunto benvenuta Giussi ciao Valerio buonasera e grazie di avermi chiesto di dare la mia testimonianza perché non vedevo l'ora grazie a te di aver accertato e voglio subito chiederti tu Giussi quando prima di iniziare il percorso con noi in che situazione ti trovavi cioè qual era il tuo problema la disperazione perché io ho sempre combattuto con il peso in eccesso ma più che altro mangiavo poco adesso ho scoperto un po' troppo poco e non riuscivo comunque a non tanto a calare di peso perché il peso per me è un po' relativo poi vi dirò però a essere soddisfatta di me stessa io andavo mi piace tantissimo andare per negozi andavo a fare shopping giravo per negozi ecco questo non mi piace questo non mi sta bene di questo non c'era mia taglia questo non mi entra e quindi era una frustrazione continua in più seguendo una dieta perché io avevo ho sempre eseguito una dieta vuoi del nutrizionista vuoi tutte le diete le ho provate un po' ehm e lì era caspita mangio poco mi privo di questo mi privo di quello mi privo di quell'altro non vado a cena fuori eh non vado a fare colazione fuori che a me io adoro la colazione e e nonostante questo eh sono sempre messa così e quindi alla fine sì ero veramente scoraggiata ehm quando vi ho conosciuto ero reduce da un ultimo nutrizionista che mi avevano consigliato si avevano consigliato a mio marito in palestra bravissimo bravissimo è riuscito dove tutti gli altri hanno fallito che niente mi ha dato la sua dieta così tu puoi mangiare così eh e alla visita di controllo dopo aver fatto un mese di sacrifici che tra l'altro luglio quindi io ero in vacanza e dicevo a mia mamma devi cucinare così devi cucinare così perché io non posso mandare che già non è bello di per sé no in Sicilia peggio che mai e quindi torno su mi ripesa avevo forse perso un chilo e qualcosa dopo un mese ma comunque avevo messo su duecento grammi di massa grassa mi dice come come hai fatto io ho seguito quello che mi hai detto di mangiare tu poi dopo ho scoperto che effettivamente mangiare ogni giorno eh una trentina di nocciole eh non senza guardare il resto capito le proteine eccetera non non giova alla massa grassa effettivamente e e quindi niente eh mi sono imbattuta in un video di Mario forse uno dei primi penso perché era ancora quello con la lavagnetta dove lui spiegava eh e comincio a parlare di questi macronutrienti che alla fine non va bene assumere poche calorie ma quando io assumo millequattrocento calorie devo capire quello che assumo perché ehm se io mangio millequattrocento calorie di proteine in grasso lo stesso perché il mio corpo quello in eccesso comunque le passa nel grasso e quindi ho detto ma però ci sta questa cosa aspetta che devo approfondire e allora c'era uno dei primi video che avete fatto quello dove calcolavate prendiamo questo signore che pesa cento chili facciamo la moltiplicazione ho detto guarda non ci spendo niente li metto poi io e mi sono messa a fare due conti più o meno così le proteine per uno pericola tre vediamo e mi metto a fare conti caspita in un mese di dieta fatta così scarico l'applicazione ma il fitness pal e comincio in un mese di dieta fatto così sia io che mio marito abbiamo perso adesso mi ricordo tipo due tre chili ma tanto stupefacente non era la perdita di peso quanto stupefacente era che ti guardi allo specchio e ti vedi diversa e io dicevo guarda poi in costume capisci che subito vedi no eppure ma pensate funziona guarda io tutto questo seguendo i nostri consigli cioè ascoltando i video assolutamente sì ho guardato bene tutti i video di avviamento ho fatto i miei calcoli non c'era ancora neanche il libro perché il libro è uscito dopo io l'ho acquistato dopo quando è uscito e neanche neanche harris benedict ho controllato niente io proprio fatto in mano con carta e penna come voi li spiegavate nel video uguali e e niente e comincio e continuo comunque a perdere peso e continua allora poi ora di settembre ottobre credo detto ciao fa che c'era la mappa dei macros ho detto che mi faccio fare i calcoli dei professionisti così sono sicura che proseguo sulla strada giusta ma comunque il dimagrimento non si era arrestato cioè io continuavo proprio regolarmente poi con la mappa dei macros niente la boteosi perché comunque sia quelli posso chiederti giusi tu partivi diciamo dalla situazione che mi hai raccontato appunto con tutto questo trascorso di nutrizionisti di un po di diete nei provate varie il il tuo problema principale mi pare di capire che è essenzialmente essere in sovrappeso nonostante tutti i sacrifici e cos'è che ti ha fatto dire al di là di tutto di ti ha fatto dire ok inizio un percorso con loro perché hai deciso di iniziare un percorso con noi cos'è che ti ha colpito ti ha catturato allora no mi ha colpito che comunque il ragionamento che sentivo per me era corretto nel senso ecco perché non riuscivo a dimagrire perché nonostante io facessi diete da 900 calorie mille calorie io in realtà non bilanciavo i macronutrienti avevo eliminato i carboidrati quasi totalmente cioè io in una giornata avevo tipo eh boh forse una fetta biscottata al mattino quando facevo ancora la dieta di prima una anzi quell'ultima aveva le gallette perché i carboidrati sono il male quindi le gallette io non ne guarda testavo con un velo di miele che quanto è un velo di miele per me può essere grosso così perché può essere spesso questo vero può essere un lenzuolo un piamone esatto e quindi io cioè aveva senso il ragionamento il ragionamento era che non conta la quantità contata la qualità di quello che tu mangi bilanciare i grassi bilanciare i carboidrati bilanciare le proteine perché effettivamente il nostro corpo non fa il ragionamento che tu stai mangiando minestre 100 calorie fai il ragionamento che se ha bisogno di 90 grammi di proteine tu ne mangi 105 lui le mette da parte perché il nostro corpo va alla sopravvivenza no e quindi è quello il ragionamento che fa e quindi ho detto ha senso questa cosa poi ho detto ma sì le ho provate tutte e cioè proviamo anche questa è un classico aggiungiamo alla lista e poi niente mi ci sono appassionata perché poi comunque ho cominciato poi a vedere tutti i video gli allenamenti e tutto il resto è comunque no una rivoluzione la direttiva sì vuoi farti una domanda sicuramente all'inizio un dubbio l'avrai avuto cioè c'era qualcosa che ti tratteneva dal dire guarda inizio un percorso con loro c'è stata la voglia la scettica convertita io mi chiamo perché sì perché io ho detto tanto non funziona ne abbiamo provate tante proviamo quest'altra tanto bene o male soldi non ne ho speso perché calcoli me li ero fatti io all'inizio quindi ho detto sì poi anch'io c'è veramente anch'io ero lì che guardavo la bilancia dicevo mamma mia ma più quella bilancia guardava i centimetri perché io in tutto il percorso con dieta flessibile in vita ho perso una roba come da 95 centimetri a 76 che se rimisuriamo su un metro è tanta roba e poi cominciavo ad andare per negozi e cominciate ciao che bello stavolta invece della XL prendo la L poi quando ho preso la M avevo fatto anche il posto perché ho detto non ci credo ma non tanto per la M perché era in uno di quei negozi dove fanno la XXS e quindi per me è proibito il negozi da modelle praticamente basta sì esatto no solo quelle tutte filiformie e e quindi mamma mia c'era no veramente eh sì il due i dubbi ce li avevo tutti perché tanto sarà l'ennesima cosa che la fai non funziona ma tanto perso tanto tempo ho detto tanto non seguo più la dieta del nutrizionista qualcosa la devo fare proviamo anche questo e invece mi parla appunto dei risultati che risultati hai avuto cioè qual è ora oltre i risultati magari ci dirai appunto in termini di numeri cosa cosa hai ottenuto ma qual è quello che ti ha sorpreso di più cioè che non te lo potevi immaginare no i centimetri i centimetri che calavano io misuravo una volta la settimana e di settimana in settimana vedevo scendere ma tipo proprio eh 95 93 90 89 se saltavo due settimane avevo perso 4 centimetri in vita parliamo solo della vita perché poi anche tutto il resto è assolutamente e no sì spettacolare ma poi la bilancia che nonostante io non tenga molto in considerazione questo parametro perché è vero che sono passata da 75 chili a 63 che peso oggi e che ho deciso io di fermare questa è un'altra bella cosa che quando mai io sono decido basta mi fermo col dimagrimento faccio il mantenimento mai nella vita anzi quando decidevo di fermarmi era perché riprendevo tutti quegli interessi la bilancia che costantemente continuava a scendere o comunque rimaneva ferma ma non risaliva più io ho fatto tante volte da 75 sono arrivata a 70 poi sono arrivata anche più in là 80 chili perché il peso faceva quelle variazioni che io non mi sapevo spiegare perché io comunque mangiavo non tantissimo mi privavo dei dolci mi privavo dei carboidrati mi privavo di tutto e chi mi conosce lo sa che mi dice infatti non riesco a spiegarmi com'è che tu mangi così poco e comunque ti mantieni bella robusta così certo magari con tutte le dietetlastiche in passato avevi un po rovinato il tuo metabolismo sì sì poi il mio metabolismo non esiste è morto è deceduto quindi quindi assolutamente c'è questo mi ha stupito sì sì la la costanza di avere risultati e poi anche il fatto che volevo rassicurare tutti che comunque ogni tanto vedo spesso dei posti di gente che dice ah ma non ho perso niente sono fermata una settimana volevo dire che io con le altre diete è capitato che magari una settimana perdessi tre chili ma la settimana dopo ne ho rimessi sei quindi l'importante è comunque il processo costante cioè se io perdo anche 200 grammi a settimana va bene ma comunque vado giù e non li rimetto più e quello è bello cioè per me sono pienamente d'accordo infatti è una cosa che cerchiamo di spiegare spesso cioè la cosa importante è alla fine del percorso se tu in un percorso stai perdi un chilo a tre settimana stai ferma magari settimana dopo ne perdi un'altra settimana dopo ancora alla fine avrai perso due chili certo se in un altro percorso quello classico di dieta drastica perdi cinque chili all'inizio nel secondo la seconda settimana ne metti sei alla fine del percorso stai anch'io di più cioè quindi dov'è il bello di perdere cinque chili una botta troppo però molte persone cercano è vero la gratificazione immediata non pensano a lungo termine cioè preferiscono sorridere oggi per poi piangere per mesi invece magari perdere piano piano ti porta risultato risultato incredibile perché comunque vuoi passare da un xl a una m non è affatto male l'ultima volta ho provato anche una s mi stava che io li ho sempre meravigliato oddio mi sta bellissimo cioè nonostante io adesso abbia deciso di fermarmi va per una questione mia nel senso che allo specchio mi vedo bene so che non è il mio peso ideale ma d'altra parte per me è inutile scendere che ne so a 55 chili perché sono anche un po bassina ma a 55 chili e poi non li mantengo e devo di nuovo ricominciare a stressarmi invece adesso sono tranquilla mi piaccio e questa è una cosa importante cioè le persone che decidono secondo me di affrontare questo percorso e alla fine guardarsi tanto lo specchio avete ragione su questa cosa la bilancia sì ok ma poi oggi un kilo in più perché ieri ho mangiato la pizza oppure non ho bevuto tanto quindi ritenzione. Alla fine parliamoci chiaro e sono sicuro che chi ascolta sarà d'accordo cioè non importa davvero nulla quanto pesi l'importante è quando vai al negozio dico ti prendi un bel bikini e come cavolo ti sta è quello che è importante perché poi fare schifo col bikini e pesare 30 chili può essere una strafiga e pesarne 70 non è quello che conta conta come ti sta addosso sì sì e conta piacersi perché io alla fine anche con due tre chili in più fai con anche cinque chili in più mi piaccio va benissimo per me ottimo cioè a me la frustrazione di non ottenere mai il risultato che io volevo non c'era una volta che io arrivassi alla fine di una dieta forse una delle prime che ho fatto ma tanto dopo era la famosa dieta con 800 calorie al giorno poi la domenica il pasto libero e io la domenica cominciava al mattino e mangiavo tutto quello che non avevo potuto mangiare il gelato la pasta al forno le lasagne poi ovviamente su base settimanale magari la settimana dopo se avevo esagerato il mezzo chilo l'avevo preso lo stesso anche se mi ero mantenuto 800 calorie perché poi su base settimanale il corpo fa sempre i suoi conti che sono precisi non come i nostri quindi mi viene da chiederti di tutto il percorso dieta flessibile l'elemento che ti ha aiutato di più qual è stato secondo te cioè cos'è importante della dieta flessibile a mangiare quello che vuoi non c'è non c'è paragone ma non solo quello che vuoi nel senso che io ho fatto il calendario dell'avvento quindi tutte le sere dopo il mio pozzetto di cioccolata ho messo nella quindi quello già di gratifica ma mangiare quello che vuoi nel senso che non ti stressi che tu la mattina magari che ne so apri il frigo e non hai 150 grammi di pollo e allora cosa fai allora io apro di là e penso va bene invece dei 150 di pollo mangio l'hamburger con questo oppure mi faccio un toast col pane proteico oppure è bellissimo oppure torni tardi da lavoro torni tardi da lavoro torni a casa devi fare la cena e tu in quella sera hai l'insalata per il frigo non ce n'è quindi cosa faccio panico e invece noi anche in corso d'opera cioè io le giornate me le programmo sempre prima perché poi se no capita che non riesci a bilanciare bene invece io parto dagli sfizi così faccio una bella colazione infatti il digiuno flessibile purtroppo non è per me perché io adoro la colazione quindi faccio una bella colazione poi intorno lì bilancio le proteine e poi tutto il resto è sfizio nel senso che se voglio mangiare ha un'altra cosa la mensa io mangiavo in mensa scolastica e per me era il delirio il delirio perché ovviamente in mensa giri mangiando tipo tre giorni la settimana di capito il giorno delle lasagne il giorno del risotto eh il giorno boh della cotoletta e e tu sei lì che dice questo non lo posso mangiare io quando c'erano le lasagne che per i bambini ovviamente piatto unico quindi facevano la lasagna e il piatto di verdura io per dalla mattina arrivavo magari alle quattro e mezza solo avendo mangiato la verdura e mezzo panino e basta perché la lasagna non ci penso per niente e non ci pensano nemmeno i nutrizionisti devo essere sincero non ci pensano affatto quando ti fanno il tuo bel fogliettino con la roba già scritta e tu glielo dici guarda che io mangi in mensa lo stesso quel fogliettino ti arriva non è che ti fa guarda mi hai tolto le parole di bocca infatti l'ultimo nutrizionista faccio il nutrizionista da dieci anni quindi diciamo che lo so ma come lo fai tu è diverso però a me l'ultimo quello delle nocciole infatti mi ha detto no un altro prima che mi ha detto eh ma tanto non preoccuparti perché appunto ti do il fogliettino poi tu puoi decidere e io vabbè guardo il fogliettino mercoledì in mensa ci sono appunto lasagne e verdure lo mi ha messo 200 grammi di orata spigola tonno e io dove lo prendo ma posso decidere cioè posso decidere roba che non c'è quindi che faccio ma è giusto assolutamente cioè guarda che il delirio veramente il delirio infatti una cosa che molti me lo dicono non sei l'unica la libertà di poter mangiare a mensa che sembra una cosa stupidissima no cioè io posso mangiare a mensa quello che mi da la mensa organizzo il resto della giornata cioè c'è la lasagna poi la sera metto che ne so il mio pollo i miei le mie proteine organizzate come piace a me e sono a posto e le facce delle poche ma tu l'anno scorso non mangiavi mai la pasta io la pasta mai demonio dice no perché mettimi solo il secondo e poi mi diceva ma guarda che di secondo ci sono due bastoncini findus come fai eh niente io la pasta comunque non la posso mangiare e poi quando ho cominciato dieta flessibile no con gli occhi così ma tu mangi la pasta sì grazie ma ti metto la porzione giusta sì grazie non c'è problema ho comprato il cucchiaio misuratore quindi peso esattamente quanto è di pasta beh ovviamente cucinata in mensa magari vado un po per eccesso perché comunque di mensa di solito a scuola sono molto soft cottura al forno quindi non ho il problema dei grassi io mi peso la mia bella porzione di risotto alla zucca come oggi e ho mangiato il risotto alla zucca e no non c'è paragone non c'è paragone ma se tu per anche per chiudere così ti libero ehm a chi consiglieresti questo programma considerando anche la tua esperienza cioè a quale persona ti sentiresti dire inizia dalla dieta flessibile no la domanda è alla risposta a chi non consiglieresti dieta flessibile perché dieta flessibile secondo me è sostenibilissima da tutti allora per dir da tutti no perché io mi è capitato a scuola mi chiedono le consulenze ma spiegami spiegami l'applicazione spiegami va bene ehm a chi non ha costanza nel segnare le cose perché non puoi andare a occhio oppure arrivare la sera come arriva mia collega ma io sera ho ancora 850 calorie cosa mangio cosa vuoi mangiare un capretto non puoi cioè devi programmare in anticipo però qualcosa alla dieta glielo devi dare io ho scelto di non dare alla dieta i miei carboidrati e quindi gli do un po' del mio tempo ma io mi diverto beh io la sera sto lì a far quadrare tutti i calcoli io mi diverto e quindi no non mi sa cioè solo proprio alle persone che io non la consiglierei alle persone che amano mangiare pollo e insalata e le quantità e le cose che dice il nutrizionista per quelli ci dispiace cioè buon per loro che gli piace mangiare solo pollo e insalata va benissimo io preferisco la pizza e la birra poi non so tu guarda e adesso posso dire dire un segreto che lo so che non si fa però io con dieta flessibile ho fatto anche il giro pizza il sabato perché si può no perché non so che ogni ucanito non si non si può tracciare però io riuscivo ormai ero talmente abituata che riuscivo talmente bene a bilanciare tutto che poi tranquillamente cioè a me risultava come un giorno normale nel senso che ho fatto il giro pizza quindi a pranzo so che devo mangiare schiscia così la colazione la faccio soft e nonostante ciò la bilancia non andava in su quando c'è chi per un giro pizza sta a digiuno una settimana e fa due ore di carta ogni giorno eh attenzione esatto esatto io ti ringrazio veramente per questa intervista sei stata eccezionale no ti ringrazio io perché ho avuto la possibilità di dire a tutti quanto è bello stare a dieta flessibile e lo dico per esperienza cioè sono sincera non lo dico per fare pubblicità perché non mi hanno pagata non mi hanno minacciata e quindi lo dico proprio è bello cioè provate se non provate non non potete capire quanto la meraviglia di mangiare la mattina il cappuccino piuttosto che manca semplicemente pane burro in marmellata o pane filadelfia in marmellata che così mettiamo le proteine però è bello effettivamente i piaceri della vita sono pochi perché toglierli tutti giusto il cibo è veramente uno dei piaceri più importanti sono d'accordo giusi davvero grazie ti ringrazio sicuramente anche tutte le persone che ti stanno ascoltando perché indubbiamente ora hanno chiaro cosa possono ottenere con un minimo sforzo veramente e tutte le privazioni inutili che hanno fatto fino oggi quindi grazie da parte mia grazie da parte loro e di tutta l'età flessibile italia spero di di averti come ospite in un'altra intervista magari ti aspetto sempre nel gruppo che sei molto attiva anche per aiutare e dare consigli a tutti quanti quindi grazie per quel che posso volentieri grazie a te grazie a presto ciao